allora ragazzi sono usciti degli articoli inerenti al bilancio dell'Inter Inter dal record ma cassa bruciata meno ottantanove milioni a bilancio spiegato l'intervento e poi Zang converte praticamente un debito che poi Zang ai debiti gli fa fare il giro delle sette chiese e gli ritornano indietro come Gioao Mario Correa quindi Zang converte un debito diminuire cioè non c'è nessun aumento di capitale quello che voglio dire io è che nonostante ritornando proprio agli incassi come dice questo articolo vi posto il link ma calcio e finanza mi sembra ha detto nonostante un Inter con i cassi dal record come quelli dell'anno scorso nonostante le cessioni oltre gli cassi dal record brucia ottantanove milioni capite benissimo che è un club che brucia denari altro che le peoggia di milioni di cui vi parlano perché questa gente non sa che l'Inter ha un miliardo da pagare nel duemilaventisette tra bond prestito e via e via discorrendo no qualora andasse avanti ci sarebbe un miliardo da pagare io però ora voglio mettere da parte un attimo la finance situation e voglio parlare di un ragazzo di un calciatore che su youtube non voglio la medaglia non me ne frega nulla non ne parlava nessuno ma non in orbita inter proprio non lo conosceva nessuno e zigzeh io prima di inter bologna sette mesi fa dissi occhio a questo ragazzo perché lo sto seguendo ed è forte poi ci fece gol mandò tutta la difesa dell'inter a destra se vi ricordate lui andò a sinistra e ci fece gol a san siro da lì gli interisti cominciarono a dire oh cazzo forte sto zigzeh è un giocatore per cui attenzione io farei cante false ma partiamo da un presupposto due anni fa seguimi concentrati due anni fa abbiamo disinvestito asset per 200 milioni investendole poi investendo nel tempo la metà della metà livello che abbiamo dismesso poi l'anno di lukaku abbiamo disinvestito per 40 milioni investendo nei 22 per un anno di noleggio di lukaku rimanendo con il cerino in mano l'unico mercato un un attimino potabile è stato quello dell'anno scorso nonostante che no non siamo riusciti a ad assemblare una rosa di attaccanti diciamo competitiva perché abbiamo avuto solo gli attaccanti ma l'unico mercato eh diciamo dove ha preso Pavard dove ha preso Frettesi è stato quello dell'anno scorso perché eh c'erano gli incassi straordinari della Champions e perché poi hai abbassato il tetto in gaggio con Onana con Brozovic con Lukaku con Geco più le vendite dei giocatori ecco perché hai dovuto fare due acquisti perché hai diminuito il tetto in gaggio avevi incassi straordinari e hai venduto i giocatori e nonostante tutto nonostante tu abbia fatto questo nonostante tu abbia fatto questo Inter dal record per gli incassi ma cassa bruciata 90 milioni meno 90 questo ti fa capire in che situazione è l'Inter altro è la pioggia di milioni che ti dice il reverendo di Pechino perché quello ti ricordo che è quello di Glass Trust non esiste è quello del socio di minoranza è quello che Zang si ricompra l'Inter d'Octri è quello che ti diceva che c'era che era stato fatto il riscadenziamento al 15 per cento con Octri è quello che ora ti parla di Pinco è quello che ti dà duemila versioni al giorno il reverendo di Pechino ma quando io sento leggo perché l'ho già letto anche dal Repubblica giornale di tutto rispetto ci mancherebbe indipendentemente dalle notizie che possa dare che dà quando io leggo perché ovviamente allora innanzitutto Turam gode il decreto crescita Turam per una società in queste condizioni sarebbe tutta plusvalenza eh sarebbe grasso che cola hanno fatto la stessa identica cosa o non ha per me cambia la proprietà lo sai ma bisogna anche illustrare degli scenari diversi da quelli che uno pensa per rispetto di chi non la pensa come me te lo ripeto per me cambia la proprietà ma qualora non cambiasse la proprietà te devi prendere in esame di cedere uno come Turam per prendere zigzag a 50 60 milioni ma Turam non lo puoi cedere a 50 ma te non puoi cedere Turam perché zigzag può fare in parte quello e fa Turam attenzione ad oggi e io sto parlando di un giocatore che con tutto rispetto conosco meglio di tutti voi perché io zigzag lo seguivo a due anni per quello quando sette mesi fa su youtube prima di interbologna dissi occhio zigzag che nessuno conosce perché già lo seguivo da un anno grazie al mio amico e grazie anche a Michele della sciatrice che sono i lati che anche lui lo conosceva zigzag cedere Turam sarebbe una puttanata galattica una puttanata galattica perché è un giocatore completo è un giocatore che fa assist che crea superiorità numerica che ti fa densità centrocampo e ti va a destra ti va a sinistra ti fa 15 gol all'anno e 10 assist non lo ritrovi da nessuna parte un giocatore come Turam che guadagna quella cifra con il decreto crescita gutmundson per esempio quello è fatturato non lo può gutmundson non lo può fare quello è fatturato zigzag lo può fare ma in parte anche se io su zigzag devo risottolineare una cosa raramente ho visto un centro avanti di quell'età ripulire tutti i palloni sporchi che gli capitano perché a lui gli puoi dare le palle tutte le maniere lui riesce sempre a ripulire la palla e a far ripartire l'azione e va anche a concludere zigzag dove deve migliorare sotto porta se vuole diventare un nuovo top mondiale deve essere più cattivo ma come il giocatore non si discuta io sono innamorato calcisticamente di zigzag e lo prenderei subito ma non lo prenderei per sacrificare Turam attenzione perché in un inter in un inter normale te dovresti avere con settanta con circa settanta partite tre attaccanti titolari perché quando hai tutte hai tre hai cinque competizioni da gestire e hai circa settanta partite non esistono più tratti attaccanti titolari la riserva giocano tutti e tre sono tre titolari te devi avere tre dello stesso livello e un quarto puoi puoi avere anche un giovane uno magari ne so o anche uno con esperienza perché tra zigzag turam e lautaro martinez giocano tutti e tre problema è che te non lo puoi fare con questa proprietà zigzag turam e lautaro martinez sentito dire l'inter vende carboni vende fabian non devi vendere nulla carboni fabian sono giovani su cui devi puntare perché il futuro sono i giovani perché sennò poi ti ritrovi a fare gli instant team ma poi gli instant team finiscono il culo dei michitarian degli acerbi e del dalmian poi finisce non sempre trovo perché poi trovi anche classen a zero trovi quadrado trovi l'operazione arnauto vince a 10 milioni che non ti danno nulla non sempre ti va bene perché quest'anno tranne turam ovviamente ma eh pelino l'immortale ha fatto un miracolo portando turam a zero mi riferisco ad ausilio tranne turam ragazzi eh se ti guardi quest'anno le operazioni a parametro zero sono state sbagliate tutte di cosa stai ragionando vogliamo prendere dieci parametri zero quest'anno non lo puoi più fare è finito il giochino hai già preso Taremi e Zielischi poi attenzione perché questi parametri zero devi bombardare di soldi procura non esiste più il parametro zero procuratore di Taremi vuole soldi procuratore di Zielischi vuole soldi e poi attenzione perché alzi tanto gli ingaggi li abbassi da un lato ma non puoi contare i giocatori e li rialzi da un altro oltre 95 milioni bruciati capito che ti voglio dire io ve lo dico subito patti chiari amicizie lunghe amicizia lunghe amicizia lunghe guarda mi 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 sale il sangue al cervello giù le mani te lo dico una volta sola giù le mani da Tikus Turam in qualsiasi caso se c'è un giocatore che non deve essere ceduto è proprio lui perché Turam sono due giocatori in uno come lo era Akimi che è anche lì hai dovuto venderlo perché tutta sta pioggia di milioni che ti è capitato addosso ha dovuto far sì che tu lo dovessi vendere ciao it grazie a tutti grazie a tutti